...laterale già aperta, nel momento in cui mio figlio è entrato a scuola, la scuola già era distrutta. No, e poi mi piace molto Elena che lei abbia preso una posizione chiara, cioè, insomma, no, di condanna nei confronti di suo figlio. Allora Elena, la faccio attendere un attimo. Condanna mio figlio, perché? Aspetti un attimo, voglio sentire prima Mario Adinolfi, perché ho poco tempo e mi preme sentire anche Mario. Mario? Ma io ho visto anche comparire un ritaglio di giornale, in questo caso credo abbia proprio regione il ministro, il problema è il principio d'autorità. Noi abbiamo infranto il principio d'autorità. Io penso sia folle il rito annuale delle occupazioni scolastiche, la trovo un meccanismo folle. Tra l'altro un rito che risale agli anni in cui sia io che la signora eravamo giovani, e che si protrae ogni anno sempre con la stessa ritualità e sempre con le stesse conseguenze. Non c'è niente da fare. Io sono genitore di molte figlie ormai. L'esperienza che ho fatto è che in ogni annualità almeno 7, 10, 15 giorni saltano con queste occupazioni, che è solo una follia, è solo una rottura di un principio chiaro. Non si va a occupare la scuola, la scuola si va a studiare e i genitori non devono in alcun modo tollerare le occupazioni scolastiche rituali annuali, che sono un rito folle e senza senso. Le proteste si fanno negli ambiti in cui si vuole protestare, ma non si occupano edifici pubblici, non si trovano giustificazioni. Il preside non deve dire che non appartengono all'istituto, se invece evidentemente appartengono all'istituto. E lo stesso preside dice che ci saranno provvedimenti disciplinari. Voglio dire anche alla signora, non troviamo palliativi e giustificazioni. Sono atti devastanti anche culturalmente. Io non trovo palliativi. Io ho già dato un castigo a mio figlio. Anche se solo mio figlio è entrato da una porta laterale, ha bisogno del suo castigo. Non trovo nessun palliativo. Ho avuto il coraggio come mamma di metterci la faccia. Qui non si è visto nessuna mamma di tutti i ragazzi che sono entrati nell'istituto. Elena, non si riferiva a lei, parlava in generale, eh, di Nolfi, perché lei ci ha messo la faccia giustamente e ha condannato... Io ho messo la faccia davanti all'Italia, al preside, a chiedere scusa. Non mi ha dato nessuna mamma. Io e le mamma sono ancora qui. E ci metto la faccia e non perdono a mio figlio di essere entrato in una scuola già... Brava Elena, brava, questo è l'atteggiamento giusto. Non si è trovato nessun palliativo. Sono stata una studente. No, nessuna tolleranza. Non si è trovato il modo di approfittare di ragazzi che sono entrati su... Elena, devo chiudere, ho un tassativo. Ora avranno il castigo che meritano. Elena, devo chiudere, ho un tassativo. Parli con Capresi e poi dopo noi torniamo su questa storia. Grazie Mario. E grazie a tutti molti. Chiudo velocemente. Pubblicità. Grazie.